Il linguaggio verbale è la forma di comunicazione più evoluta, ma da dove hanno avuto origine le prime parole? Secondo la scienza, le capacità di comunicare dell'uomo primitivo erano minime, perciò i primi suoni erano legati ai muscoli labiali, che il bambino sviluppava succhiando il latte materno. Questi suoni, am e ma, sono stati associati alla figura che loro avevano di fianco e che li nutriva, perciò col passare del tempo, ma è diventato mamma e si usa in tutto il mondo. Ciò dimostra come la lingua albanese stia da parte nella sua condizione originale, in quanto mamma in albanese ancora oggi si dice am e ma, jot am, im e ma. Questo ci riporta a ciò che affermava il famoso glottologo Jacob Grimm, ovvero che il linguaggio umano nel suo primo stadio era monosillabico ed ogni protolingua era tale. Ad esempio, la parola acqua è nata imitando il suono che quest'ultima faceva, ovvero well, e ancora oggi in albanese acqua si dice ui, una chiara imitazione del suono della natura. Per dimostrare ciò mi piacerebbe parlare di un gioco che molti professori albanesi sono soliti fare, ovvero creare una tabella con da una parte le consonanti e dall'altra le vocali. E quando queste si scontrano nasce un'infinità di parole che esprime diversi concetti. Ricordiamoci però che l'essere primitiva, in questo caso, non esprime inferiorità, come dicono alcune ipotesi scientifiche costruite sulla sabbia. In questo caso si parla di una saggezza che si perde nell'oscurità dei tempi. Con questa lingua monosillabica il grande Fannoli ha tradotto Shakespeare usando un numero di parole addirittura minore della lingua inglese. Purtroppo tra gli scienziati da sempre c'è grande disaccordo, liti e gelosie rancorose, un generale orientamento verso il materialismo. Perciò io citerò uno dei più grandi scienziati della NASA, Robert Gestro, che diceva Lo scienziato, che tutta la vita ha creduto nel potere della ragione, pensa di scalare ora l'ignoranza attraverso studi e teorie e mentre sta raggiungendo la cima più alta, mentre affaticato butta la mano sull'ultima roccia, vede lì un gruppo di teologi seduti da secoli. E nuovamente, con teologi, non mi riferisco alla chiesa di oggi e ai suoi agenti bigotti. Il clero, da spirituale, è diventato dogmatico e corrotto quanto il mondo della scienza. Dogmi senza prove e grande avidità. Ebbene, io mi riferisco a quella grande conoscenza che parzialmente potremmo individuare nella filosofia platonica. Nella lingua albanese, creazione e crimine suonano identiche, kriim. E come sappiamo, ogni racconto che riguarda la creazione ha inizio con un crimine. Saturno che uccide Urano, Zeus che uccide Crono, la dea Ishtar che va nell'oltretomba e quando risale su nasce la vita, Gesù che muore in croce, e così via. Ma il racconto cosmogonico più diffuso è quello del toro ucciso affinché l'esistenza, la vita, abbia inizio. La lettera A in albanese significa essere. A-I-A Egli è Ora, nella simbologia antica, il toro è rappresentato da un simbolo che assomiglia alla lettera V. Mentre il toro ucciso assomiglia a questo simbolo, la lettera A. Da lì inizia la vita, comincia l'alfabeto. Io sono l'alfa e l'omega. Negli apocrifi, quando a Gesù viene chiesto cosa avviene prima della lettera A, egli risponde il buio. Tutto è collegato ed ha senso, poiché questo buio di cui lui parla, nel mito cosmogonico greco, corrisponde al caos. E come ci ricorda il monsignor Giuseppe Crispi nel suo Grammatologia comparata con la lingua albanese, caos deriva dalla parola kao, che in albanese significa toro o bue. Siamo tutti d'accordo che non si parla più di una coincidenza. Ed erodoto ha un racconto che conferma tutto ciò che io ho detto fino ad ora. Ma ne parleremo nel prossimo video.